Tutto pronto per la 75esima edizione del Gran Premio Merano Forst, 12 cavalli al via, si rinnova il duello tra Dar Said ed il vincitore dell'anno passato, Al Fatou, quest'ultimo favorito d'obbligo della competizione. Sulla selettiva a distanza dei 5.000 metri Paolo Favero, orfano di Raffaele Romano, presenterà altri tre allievi, Frolon, Unionu Bosche e Veloce, agguerriti gli invader cappeggiati dal francese Martelaine senza trascurare l'eterno Demon Magic ed il noto Budapest, incognita di lusso, Camelì, unica femmina in corsa. Domani all'ippodromo di Maia sono 7 le corse in programma, il convegno si apre le 13.30 con il criterium d'autunno, 5 i soggetti al via tra cui Spicamo Corro, recente vincitore, Imperioso resta l'alternativa più allettante. Si prosegue con una piana sul miglio incerta in cui Abbiati potrebbe emergere alla distanza Itazip permettendo, in corsa al duo di scuderia formato da Let's Rock e troppo forte, la terza l'immancabile cross country ed è proprio Montepelmo l'indiziato numero uno per la vittoria, seconda citazione per il rodato Regain Madrid, già vincitore sulla pista. Quarta ottima condizionata flat sui 1600 metri in cui il volante Cleverband merita giusta considerazione, temibile la tedesca Donatella probabilmente preparata ad hoc per questa corsa. Si continua con un gruppo 2 riservato ai 4 anni di ottima qualità in cui Cazor ruba l'occhio alla pari del diligente signor Tiziano. Sesta bellissima edizione del premio Goldeg sull'impegnativa distanza dei 3000 metri, logico frontrunner della corsa Frentic Storm, pericoloso Twilight Zone già positivo sul tracciato. Sugarello naturalmente non parte battuto alla pari di Part of Me montato da Elisabetta Marcialis.